La vecchia piazza Roosevelt a Palo del Colle si è rifatta in look da area del mercato ortofrutticolo spostato poco più in là a una nuova vocazione che tiene insieme gli spazi commerciali che vi si affacciano le aree verdi, il riuso delle acque piovane e un restyling a largo raggio all'interno di un pacchetto che comprende anche altri interventi per un totale di un milione di euro di fondi regionali antecedente il PNRR, la cosiddetta strategia SISUS Un progetto che si integra perfettamente con il processo di riqualificazione del centro che mette in connessione attrattori pubblici come l'edificio scolastico, il municipio, la biblioteca comunale, le aree mercatali insomma un processo di riqualificazione ad ampio raggio Nuova viabilità che non vede del tutto interdetto l'accesso alle auto ma lo ridisegna ora più alla portata degli eventi pubblici già partiti come quelli che preparano alle festività Abbiamo fila sotto gli archi perché insomma nel tentativo di voler rilanciare, di vivere costantemente gli spazi riqualificati dalla nostra città l'amministrazione con la collaborazione di tanti cittadini, associazioni, volontari che si sono resi protagonisti di questi eventi di questi due giorni abbiamo messo su un bel circuito di gastronomia, di sapori, tradizioni, di cultura che è a disposizione di quanti vorranno venirci a trovare